Un saluto a tutti voi che avete partecipato a questo bellissimo sera di Natale, a tutti i componenti del corno bandistico, gli auguri di serelle e gioiosi feste di Natalizie e anche a tutti voi portati alla casa, gli auguri che siano veramente gioia, giorni poi di serenità di pace, auguri a tutti i miei anni. Grazie mille, ci vedete il offerto da Simona Paccio, titolare del negozio La Fiorentina di Alessandra 44, grazie mille Simona.